Vai, vai, metti a piano! Principio di incendio tetto nella mattinata di giovedì 20 luglio, intorno alle 10, in vicolo Alfieri e Favria. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'autoscala e la pulizia locale. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere ai soccorsi di operare. Le fiamme sono state spente sul nascere. Sono ora in corso gli accertamenti per capire come si sia sviluppato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti